Musica Benvenuti al TG10, l'apertura del telegiornale, oggi la dedichiamo alle condizioni di estremo di grado in cui versa il cimitero monumentale di Gela, sterpaglie ovunque che impediscono, ostacolano il passaggio dei familiari, dei defunti. Gela, cimitero monumentale, pochi passi dal centro storico, dal salotto della città. Prestigiose cappelle storiche, antichi monumenti e sepolcri che raccontano la vita e la storia di una comunità. Un campo delimitato da mura che appare abbandonato da tutti, se questo è un cimitero. Le sterpaglie crescono ovunque, talvolta ostacolano o impediscono addirittura il passaggio a piedi tra i viali dove riposano i nostri cari. Negli spazi aperti in cui riposano defunti che hanno avuto la loro degna sepoltura in un campo senza monumenti e senza coperture, l'erbaccia è alta ormai più di un metro. È tutto un trionfo di squallore e degrado. Non si distingue più il sacro spazio, per chi crede nell'aldilà è uno spazio sacro, sì, tra il luogo della sepoltura e lo spazio per rifiuti e sterpaglie. Non osiamo nemmeno immaginare cosa potrebbe accadere qualora accidentalmente un mozzicone di sigaretta finisse in uno di questi spazi di erba secca. Umiliazione, indignazione, vergogna, difficile distinguere il sentimento prevalente. Non vi è traccia di rispetto per la memoria storica di un popolo. Ma si sa, spesso l'uomo ha la memoria corta e questa rappresenta la madre di tutti i disastri, inebria di senso di onnipotenza e immortalità e ci allontana dalla realtà, dal confine tra la vita e la morte. E' molto degradante vedere una situazione del genere, tra l'altro dovremmo ricordarci tutti che, così come diceva mia madre e comunque altri congiunti, la vera casa dovrebbe essere questa. Se questo è il modo di poter ospitare tutti noi, è veramente una vergogna. Basta vedere le immagini, vedere la sterpaglia che c'è, le tombe, specialmente quelle che sono messe a terra, non hanno nessun rispetto per queste dombe e queste anime. Dovremmo sapere tutti che un giorno o l'altro saremo tutti qua. Senza contare che questo cimitero monumentale è veramente molto antico, potrebbe addirittura essere visitato per le cappelle, i monumenti che sono custoditi all'interno di quest'area. Questo dovrebbe essere un fiore all'occhiello, tra l'altro il cimitero monumentale, essendo che si trova proprio al centro della città, quindi che difficilmente oramai ce ne sono, perché oramai come sappiamo tutti i cimiteri sono al di fuori, dovrebbe rappresentare proprio una carta di identità per la città di Gela. Non vorrei che questa carta di identità appunto è quella che poi di fatto è Gela, quindi è degradata in tutti i settori e purtroppo anche il cimitero è degradato. I consiglieri comunali Totoso Ammito e Salvatore Scerra hanno presentato una interrogazione al sindaco in merito allo stato di degrado in cui versa la città. In questi giorni, spiegano i due consiglieri, riceviamo continue lamentele e segnalazioni dai residenti e turisti di passaggio che riguardano le condizioni di indecorosa manutenzione e pulizia nella quale si trova la città. La situazione è diventata insostenibile e inaccettabile perché molte strade cittadine sono in condizioni di scarsa pulizia e dissesto. In molte delle aiuole sparse lungo tutto il paese, la villa comunale, il verde sembra essere scomparso per lasciar posto a erbacce incolte e rinsecchite. Vi sono inoltre alcune situazioni dove le condizioni igieniche appaiono realmente precarie, come ad esempio via Butera, via Venezia, gli ingressi ai quattro lati della città e le periferie. La presenza di serpaie favorisce ratti, serpenti, zecche ed una sgradevole puzza di fogna. La percezione, dicono i due consiglieri, è quella di un paese abbandonato e sempre più sporco. Salvatore Sammito e Salvatore Scerra chiedono alla giunta comunale di intervenire al più presto e di operare con maggiore efficacia al fine di garantire ai gelesi, agli operatori economici e ai pochi turisti un paese più pulito e decoroso. Spaventoso incidente stradale. Ieri sulla 115, nel tratto Vittoria Gera, all'ingresso di Acate, il bilancio è di quattro feriti, tra cui un bimbo di otto mesi in prognosi riservata all'ospedale Guzzardi di Vittoria. A scontrarsi, lo vediamo nella foto, sono state due auto, una Fiat Panda e una Opel Astra. La prima viaggiava da Gera in direzione Vittoria, la seconda con a bordo una famiglia di agrigento nella direzione opposta. A causa del violento impatto tra le due macchine, il bimbo ha battuto violentamente il capo. Feriti anche i due conducenti, un vittoriese ed un agrigentino, e la mamma del piccolo. E adesso vi proponiamo un'intervista alla responsabile della squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Gela, Massimiliano Santoro, in merito all'imminente stagione estiva che vedrà impegnati gli uomini della squadra nautica. Anche la Polizia di Stato ovviamente collabora per garantire la sicurezza al mare, ma è chiaro che la sicurezza per la Polizia di Stato va intesa non soltanto al mare, ma anche a terra, ed in particolare la si estende anche alla salvaguardia dei bagnanti che vengono fatti anche oggetto sul litorale di scippi, furti e quant'altro. Alle porte dell'estate questa attività risulta ovviamente intensificata, è una stretta collaborazione con gli uomini della Capitaneria di Porto. La Polizia di Stato, con particolare riferimento alle squadre nautiche che garantiscono questo settore della sicurezza, collaborano in assoluta sinergia con il personale della Capitaneria di Porto. La collaborazione è chiaramente ancestrale da quando esiste il presidio di Polizia e la Capitaneria di Porto su questo territorio ed è chiaramente continuo ad esserci per tutte le stagioni estive, come per gli altri anni, anche per quest'anno e verrà potenziata in ragione delle risorse di cui dispone. I consorsi dell'autotrasporto di merci e di rifiuti industriali di Gela hanno dichiarato lo stato di agitazione e chiesto alla società italo-francese Ecorigen che rigenera catalizzatori chimici nell'area della raffineria dell'Eni un incontro urgente di natura commerciale in un momento in cui le scelte aziendali dei vettori sembrerebbero privilegiare le ditte catanesi e palermitani a discapito di quelli locali. I camionisti di Gela in segno di protesta hanno presidiato ieri l'ingresso merci dello stabilimento rallentando di molto l'uscita dei tir noleggiati da Ecorigen dei quali solo uno farebbe capo ai consorsi gelesi. Tutto questo succede, è stato ricordato dagli autotrasportatori nel corso di una animata assemblea ieri sera malgrado i consorsi locali abbiano offerto alla azienda tariffe ridotte e competitive. Ruolo dell'Eni in Sicilia è il tema che sarà affrontato domani alle 9.30 nell'ambito dell'esecutivo macro area sud-est Sicilia della Wiltec appuntamento nella sede gelese di via Cristoforo Colombo 146 relazionerà Maurizio Castania, segretario generale aggiunto presiderà i lavori Giuseppe Scarpata, componente della segreteria macro area sud-est Sicilia concluderà Emanuele Sorrentino, segretario generale macro area sud-est Sicilia della Wiltec. Ancora un evento di grande successo per la terza edizione del progetto Easy Basket portato avanti dal secondo circolo didattico Enrico Sorrito di Gera con lo slogan Adotto a una scuola, il basket come strumento di integrazione contro le devianze giovanili, si è svolta ieri in un palacossiga cremito di bambini e genitori, la giornata conclusiva della manifestazione che si protrae per tutto l'anno scolastico. A fare da corollario alle gare e alla grande festa di sport è stata una interessante conferenza che si è tenuta nella sala riunioni del palacossiga, alla presenza di eminenti ospiti tra cui il presidente regionale della Federazione Italiana Pallacanestro Antonio Rescifina, l'allenatore della nazionale under stage di basket nonché vice allenatore della nazionale maggiore femminile Antonio Bocchino il tecnico dell'Orlandina Basket di Serie 1 Gennaro Di Carlo e il sostituto procuratore del Tribunale di Gera Lara Secchacini si è parlato dal rapporto tra Easy Basket Scuola e le sue refluenze sulla crescita sana dei bambini. All'incontro hanno anche partecipato gli amministratori locali Eugenio Catania, assessore allo sport e Flavio Di Francesco, titolare del settore lavori pubblici del comune di Gela a completare la riuscitissima manifestazione della Secondo Circolo in collaborazione con il Basket School Gela di Salvatore Bernardo vera anima di questa lodevole iniziativa, anche la presenza al Palacossiga di tre stand che rispettivamente raccoglievano fondi benefici per conto dell'Unicef, un altro a favore di Salvatore Spene e un terzo per le firme a favore della Brest Unit. Presente anche una folta delegazione della sezione gelese della Croce Rossa Italiana. Infine hanno preso parte la giornata conclusiva della terza edizione dell'Easy Basket del Secondo Circolo di Gela anche i giovani extracomunitari ospitati dal CPA Tu come me di Capo Soprano. I minorenni, provenienti tutti da paesi africani, erano accompagnati dal coordinatore responsabile Marco Dominante. È una grande festa con grandi significati comunque perché l'Easy Basket a scuola non rappresenta solo un'attività gioiosa, è un'attività gioiosa che permette un apprendimento diverso. Questo campionato che da tre anni appunto noi portiamo avanti nasce dall'esigenza di rendere la scuola un luogo dell'inclusione. Il nostro progetto è quello di riuscire a fare stare bene tutti quei ragazzi che all'interno della classe o all'interno della scuola possono avere tante problematicità, soprattutto quei ragazzi che hanno disagi sociali, hanno disabilità particolari, hanno problemi specifici dell'apprendimento. Però non possiamo neanche dimenticare che la scuola è molto complessa oggi, rappresenta la società, è lo specchio della società e quindi questa complessità fa sì che all'interno di ogni classe noi vediamo l'intrecciarsi, lo stare insieme anche di più culture. E a margine della bella manifestazione del Palacossiga, coordinata dal secondo circolo didattico Enrico Solito di Gela, il nostro Franco Gallo ha realizzato alcune interviste. Nello specifico andiamo a sentire il dirigente del Basket School Gela, Salvatore Bernardo, e l'allenatore dell'Orlandina Basket di Serie A1, Gennaro Di Carlo. Sentiamo. Gennaro Di Carlo, l'allenatore di Capo d'Orlando di Serie A1, viene invece qua a Gela per un'iniziativa dove la palla canestro si cerca di inculcarla proprio ai più piccoli e ai più giovani, bambini di scuola elementare e addirittura materna. Il basket chiaramente è un fenomeno che deve partire dal basso, necessariamente la base sono i bimbi e dunque è da qui che nasce tutto. La passione di Salvatore nasce da quando eravamo bimbi tutti e due e dunque questa passione porta poi dopo a dei grandi traguardi. Oggi chiaramente in Sicilia la società di riferimento è l'Orlandina Basket, ma credo che in realtà come questa di Gela che stamattina porta mille bimbi in palestra è di assoluta eccellenza. Dunque sono fenomeni questi che andrebbero portati ad esempio in tutto quello che secondo me è il territorio nazionale, non soltanto quello siciliano e sostanzialmente tutto nasce da qui. Ha fatto un esempio che poi però riesce ad essere difficilmente collocabile nel nostro territorio. Sia lei che Bernardo avete amato la palla canestro perché a Caserta c'era una squadra di A1, c'è una squadra che addirittura ha vinto un campionato e quello è diventato il traino. Qua fare innamorare questi bambini di uno sport dove non c'è una squadra che fa da riferimento al traino è ancora più complicato immagino. Ma da questo punto di vista a me piacerebbe un po' allargare gli orizzonti, significa che mi piacerebbe tanto che questo fenomeno che personalmente sto vivendo a Capodorlando che la Serie A diventasse un fenomeno non più della città Capodorlando ma un po' il fenomeno del territorio Sicilia. Dunque un'eccellenza siciliana in tal senso. Dunque mi piacerebbe allargare gli orizzonti e far sì che un domani anche i ragazzi gelesi abbiano come riferimento la città di Capodorlando in quanto squadra di A1 e avere gli idoli anche se sono a Capodorlando. Io credo che con Gennaro avere vissuto il sogno di Caserta, quella è la classica dimostrazione che partendo da zero, da niente, quattro ragazzi casertani alla fine se vedete la finale Scudetto vinta a Milano, una squadra fatta da credo dieci decimi del settore giovanile, la maggior parte casertani più due stranieri, forse più Sandro Dell'Agnello. Quello era l'esempio lampante che sognando, partendo da un settore giovanile importante si possono aggiungere i traguardi. Oggi Gennaro rappresenta di più, Capodorlando rappresenta di più, Capodorlando è la dimostrazione che una città è risorta attraverso una squadra di basket. Oggi quella città vive di pallacanestro, non c'è un'economia, c'è un'economia parallela che si è sviluppata attorno a una società di basket. Era questo quello che volevo fare capire io agli amministratori gelesi tanti anni fa e fin quando avrò voce per parlare continuerò a farlo. Gela ormai non vive più di raffineria e lo sappiamo benissimo. Gela può rinascere attraverso lo sport, attraverso il turismo, attraverso le bellezze locali. Lui è la dimostrazione che un uomo del sud ce la può fare, lui ce l'ha fatta, lui è partito facendo l'assistente in 10.000 squadre di settore giovanile, grandissima competenza, grandissima abilità, poi ce l'ha fatta, ha fatto la gavetta e diventato allenatore di Serie A1, di una realtà importantissima come Capodorlando, non della società ultima arrivata. Quindi oggi lui testimonia quello che può fare un ragazzo del sud, testimonia quello che può fare una società del sud in un territorio difficile come quello che può essere Gela, ma che non era meno difficile sicuramente Capodorlando di qualche anno fa. La pagina della cronaca giudiziaria. Un manzarinese di 43 anni è stato arrestato dalla polizia. Si tratta di Maurizio Ginevra, fermato ieri sulla statale 626 Gela Cartanissetta, dato in escandescenze, colpendo con calci, pugni, testate e morsi i poliziotti. L'uomo era sottoposto all'obbligo di presentazione alla stazione dei carabinieri. I due agenti aggrediti sono stati costretti a ricorrere alle cure dei sanitari del pronto soccorso, dove sono stati giudicati guaribili in quattro giorni per le lesioni riportate. Torniamo a Gela. Da venerdì 3 giugno parte la nuova fascia oraria della zona traffico limitato in Corso Vittorio Emanuele tra Via Marconi e Via Trieste. Ogni giorno la ZTL sarà attiva dalle 19 alle 3. Nell'area saranno autorizzati al transito solo autoambulanze, i mezzi di polizia antincendio, di protezione civile e dei residenti che dovranno recarsi alle auto rimesse o spazi interni privati di sosta o uscire da essi senza possibilità di sosta o fermata. Quest'ultima sarà invece consentita ai veicoli a motore preventivamente autorizzati che hanno attinenza con lo svolgimento dell'attività economica degli operatori che esercitano la loro impresa nell'area di vigenza della ZTL limitatamente all'espletamento di specifici eventi suscettibili di assumere particolare rilievo economico, sociale e culturale e tali comunque da poter assumere una dimensione che se non proprio collettiva di certo travalichi l'ordinario e quotidiano esercizio dell'attività economica esercitata. Adesso ci fermiamo, diamo la linea alla regia per la pubblicità. Ed eccoci seconda parte del telegiornale. La donazione di sangue intero da parte di donatori periodici di età superiore ai 65 anni fino a 70 può essere consentita a previa valutazione clinica dei principali fattori di rischio età correlati. Persone che esprimono la volontà di donare per la prima volta dopo i 60 anni possono essere accettati a discrezione del medico responsabile della selezione. Grazie al primo di questi due punti importanti introdotti dal decreto ministeriale del 2 novembre del 2015, una donna giulese che vediamo nella foto di 66 anni ha avuto la possibilità di donare ancora il proprio sangue. Alla signora era stato precluso il diritto a donare al raggiungimento del 65esimo anno di età come previsto dalla normativa precedente ma è stato possibile ripristinarlo a seguito dell'emanazione del nuovo decreto. Si è parlato di papillomavirus ed in particolar modo della prevenzione vaccinale delle infezioni nel corso dell'iniziativa promossa dal dirigente scolastico dell'Istituto Paolo Emilioni Giudici Giovanna Valazzolo. Si tratta della conclusione del progetto Nuova Genitorialità. Le famiglie hanno bisogno di essere informate. Questo rientra nel progetto più generale, quello sulla nuova genitorialità che abbiamo portato in atto tutto l'anno. Abbiamo incontrato la magistratura, le forze dell'ordine, esponenti della cultura. Oggi ospitiamo la medicina e soprattutto la prevenzione per i vaccini perché molte famiglie non sanno, non perché, ma perché non sono stati informati della necessità di vaccinare i propri figli maschi e femmine contro il papillomavirus. Oggi lo sanno. E spero di sì. A relazionare sono stati il salvatore migliore, direttore dell'Unità Operativa di Epidemiologia delle malattie cronico-degenerative del distretto sanitario di Gela. Luciano Di Vita, responsabile del servizio vaccinazione del distretto di Gela. E Emanuele Abarto, dirigente medico di ostretrice e ginecologia dell'ospedale Vittorio Emanuele. La vaccinazione contro il papillomavirus è una vaccinazione che è stata introdotta circa da dieci anni. È molto importante in quanto è un vaccino che va a proteggere da un'infezione virale, data da un papillomavirus, che purtroppo determina delle patologie tumorali. Quindi sia nella donna che nel maschio è importante, anche perché il maschio a volte è portatore esatto del virus, quindi inconsapevolmente lo trasmette alla donna. Ecco perché la vaccinazione già da due anni nella regione Sicilia è stata estesa anche al maschietto adolescente di 11 anni. Questo perché? Per bloccare la trasmissione del virus. Dunque è importante vaccinarsi? Molto importante vaccinarsi. Abbiamo quest'anno fatto un programma esteso, soprattutto toccando vari aspetti dell'educazione alla salute e sicuramente l'aspetto più importante è quello della vaccinazione. In particolare abbiamo parlato della vaccinazione relativa alla prevenzione del tumore della porzio. Questo tumore oggi è prevedibile attraverso una vaccinazione che fra l'altro è gratuita in determinate fasce di età. Quindi basta venire presso l'ufficio di igiene, settore vaccinazione e poter essere vaccinati gratuitamente. Domani alle 10.30 presso l'auditorium dell'Istituto Enrico Fermi, sede di Macchitella, si terrà l'inaugurazione della mostra letteratura in arte. Il progetto coinvolge gli alunni e i docenti del liceo artistico dell'Istituto Industriale Ettore Majorana, retto dalla dirigente Mirella di Silvestre, referente del progetto e Sonia Madonia. La mostra potrà essere visitata da domani al 9 giugno. E domani, a partire dalle 16.30, è prevista la chiusura delle attività culturali realizzate nel corso dell'anno scolastico nei diversi laboratori dell'Istituto Comprensivo Statale Enrico Mattei di Gela, diretto da Agata Quelli, con una manifestazione denominata Mattei for You. Il programma prevede il musical Romeo e Juliet a cura di Giussi Ferrante e Barbara Ogni Bene. Attori e cantanti saranno gli alunni con la collaborazione di Ottavio Ducchetta. Ed ancora consegna di attestati, coreografie ginnastico-ritmiche a cura di Anna Argento, Maria Catena Costa, Dominic Ristagno e Giuseppe Di Vara. Certificazioni linguistiche Cambridge e Delph e spettacolo musicale Canoro a cura di Ottavio Ducchetta. Un incontro di calcio che vuole evidenziare il valore della legalità. Diamo un calcio alla mafia. L'iniziativa si darà domani alle 9.30 sul terreno di gioco dello stadio Vincenzo Presti. In campo la squadra dell'associazione antiracket Gatano Giordano ed una rappresentativa dell'Istituto Tecnico Commerciale Luigi Sturzo. Il costo del biglietto è di un euro. L'incasso sarà devoluto in beneficenza alla piccola casa della misericordia. Sentiamo ai nostri microfoni il dirigente scolastico Grazio Di Bartolo e Renzo Caponetti, presidente dell'antiracket. Presidente, tutto pronto? Domani al campo Vincenzo Presti c'è ancora una volta questa iniziativa. Le chiedo subito qual è la valenza che si dà anche ad un incontro di calcio? La valenza è sicuramente fondamentale e importante perché la partita di calcio serve proprio per veicolare quelle che sono le regole, rispetto alle regole, la confidenza civile. La scuola si fa promotrice di questa educazione alla legalità. Educazione alla legalità che non passa attraverso una sola disciplina ma è un'educazione trasversale perché interessa tutte le discipline in quanto i docenti oltre a trasmettere i contenuti naturalmente trasmettono anche i valori, i valori della convivenza, i valori rispetto alle regole, i valori dei diritti e i doveri. Quindi il nostro progetto che è stato già realizzato con la ricorrenza sul settantesimo ha avuto appunto questo scopo, quello di far capire ai ragazzi che sono portatori di diritti e doveri. Quindi la conoscenza degli articoli della Costituzione ma soprattutto ripeto abbiamo abbinato questo discorso della partita di calcio appunto per far sì che la squadra, quindi il gioco, il gioco di gruppo è fondamentale perché attraverso il gioco di gruppo c'è rispetto alle regole e quindi si conica perfettamente con quelli che sono gli obiettivi che la scuola si è proposta. Per voi l'importante è partecipare come diceva Di Cupertano oppure volete vincere? Eh beh l'importante è partecipare, vincere si vedrà insomma. Il perché stiamo facendo questa partita tra la nostra associazione e l'istituto alberghiero dell'istituto commerciale ha doppio scopo, uno per sensibilizzare i ragazzi attraverso lo sport al rispetto delle regole, seconda cosa come abbiamo messo e abbiamo evidenziato nella locandina perché lo sport è legalità e non discrimina, quindi sarà un incontro di calcio che dove sia la nostra associazione che gli istituti scolastico manifesteranno attraverso lo sport e la legalità. Saranno presenti tutti gli studenti dell'istituto alberghiero e dell'istituto commerciale, anzi per essere ancora più sicuri della loro presenza i professori chiameranno all'appello proprio presso lo stadio Vincenzo Presti. Siamo in conclusione, disinfestazione e deratizzazione dei locali del Museo Archeologico regionale di Gela si terranno nei giorni 3 e 4 giugno. L'aria apertura al pubblico è regolarmente prevista per domenica 5 giugno dalle 9 con ingresso libero. Diciamo che siamo giunti alla conclusione del telegiornale, grazie per averci seguito, appuntamento alle prossime edizioni. Grazie.